Capitolo 9. In cui il Mar Rosso e l'Oceano Indiano si mostrano propizi ai piani di Phileas Fogg. La distanza tra Sueza e Aden è esattamente di 1310 miglia e il capitolato di oneri della compagnia assegna alle sue navi un lasso di tempo di 138 ore per percorrerla. Il Mongolia, i cui fuochi erano tenuti vivaci, navigava in modo da anticipare l'orario regolamentare. La maggior parte dei passeggeri imbarcati a Brindisi aveva l'India come destinazione. Alcuni andavano a Bombay, altri a Calcutta, ma via Bombay perché da quando una ferrovia attraversa la penisola indiana in tutta la sua larghezza non è più necessario doppiare la punta di Silon. Fra questi passeggeri del Mongolia si contavano diversi funzionari civili e ufficiali di tutti i gradi e di questi ultimi alcuni appartenevano all'esercito inglese vero e proprio, altri comandavano le truppe indigene e tutti erano lautamente stipendiati. Si viveva perciò bene a bordo del Mongolia in questa società dei funzionari a cui erano frammisti alcuni giovani inglesi che, con i milioni in tasca, andavano a fondare lontano dei banchi di commercio. Il purser, l'uomo di fiducia della compagnia, corrispondente come importanza al capitano di bordo, faceva le cose sontuosamente. Alla colazione del mattino, al lunch delle due, al pranzo delle cinque e mezzo, alla cena delle otto, i tavoli si piegavano sotto i piatti di carne fresca e i contorni forniti dalla macelleria e dalla dispensa della nave. Le signore, ce n'era qualcuna, cambiavano abiti due volte al giorno. Si faceva musica, si ballava anche quando il mare lo permetteva. Ma il Mar Rosso è molto capriccioso e troppo spesso cattivo, come tutti i golfi stretti e lunghi. E quando il vento soffiava, sia dalla costa dell'Asia che da quella dell'Africa, il Mongolia, simile a un lungo fuso a elica investito di traverso, rollava terribilmente. E allora le signore sparivano, i pianoforti tacevano, canti e danze cessavano contemporaneamente e non di meno, nonostante le raffiche, le ondate, il piroscafo, spinto dalle sue potenti macchine, correva senza ritardo verso lo stretto di Bab al-Mandab. Che faceva Phileas Fogg durante questo tempo? Si potrebbe credere che, sempre inquieto e ansioso, si preoccupasse dei cambiamenti di vento nocivi al cammino della nave, dei moti disordinati delle onde che potessero produrre danni alle macchine e, infine, di tutte le avarie possibili che, obbligando il Mongolia a riparare in qualche porto, avrebbero compromesso il viaggio. Oh no, 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 niente affatto. O perlomeno, se quel gentleman pensava a tali eventualità, non lasciava trapelare nulla. Era sempre l'uomo impassibile, il membro imperturbabile del Reform Club, che nessun incidente o accidente avrebbe potuto sorprendere. Non sembrava più turbato dei cronometri di bordo. Lo si vedeva raramente sul ponte. Si preoccupava poco di osservare quel mar rosso così fecondo di ricordi, quel teatro delle prime scene storiche dell'umanità. Non cercava mai di riconoscere le curiose città disseminate lungo le sue rive, i cui pittoreschi profili si stagliavano di quando in quando all'orizzonte. Non pensava neppure ai pericoli di quel mar rosso, di quegli antichi storici. Strabone, Ariano, Artemidoro, Idrisi hanno sempre parlato con spavento e sul quale i navigatori non si avventuravano in altri tempi senza aver prima consacrato il loro viaggio con sacrifici propiziatori. E che faceva dunque quell'originale imprigionato nel Mongolia? Beh, prima di tutto faceva i suoi quattro pasti al giorno, senza che mai il rollio o il beccheggio potessero guastare un meccanismo così meravigliosamente organizzato. E poi giocava al Uist. Sì, sì, certo, aveva trovato compagni di gioco arrabbiati quanto lui. Un esattore di tasse che si recava a prendere servizio a Goa, un ministro, il reverendo Decimus Smith, che tornava a Bombay, e un brigadiere generale dell'esercito inglese che raggiungeva il suo corpo a Benares. Questi tre passeggeri avevano per il Uist la stessa passione del signor Fogg e giocavano per ore intere. Quanto a Paspartout non soffriva minimamente il mal di mare. Occupava una cabina verso prua e mangiava anche lui coscienziosamente. Bisogna dire che decisamente il viaggio fatto in quelle condizioni non gli dispiaceva più. E ne traeva dei vantaggi. Ben nutrito, ben alloggiato, viveva il mondo e d'altronde affermava a se stesso che tutta quella fantasia sarebbe finita a Bombay. L'indomani della partenza da Suez, il 10 ottobre, incontrò sul ponte e non senza un certo piacere, il cortese personaggio al quale si era rivolto sbarcando in Egitto. Ah, non mi inganno, signore, disse avvicinandolo col più amabile sorriso. Siete ben voi, signore, che mi avete fatto così gentilmente da guida a Suez? Infatti, rispose la gente. Vi riconosco, sì, voi siete il domestico di quell'inglese originale. Precisamente, signor Fix. Ah, signor Fix, rispose Passepartout, sono lieto di ritrovarvi a bordo. E voi dove andate? Oh, come voi, a Bombay. Oh, tanto meglio. Avete già fatto questo viaggio? Parecchie volte, rispose Fix. Io sono un agente della compagnia peninsulare. Oh, allora voi conoscete l'India? Ma sì, rispose Fix, che non voleva sbilanciarsi troppo. Ed è curiosa quest'India? Molto curiosa. Moschee, minareti, templi, fachiri, pagode, tigri, serpenti, bagliadere. Ma si può sperare che avrete il tempo di visitare il paese? Oh, lo spero molto, signor Fix. Comprenderete bene che non è lecito a un uomo sano di mente passare la sua vita a saltare da una nave a una ferrovia e da una ferrovia a una nave col pretesto di fare il giro del mondo in 80 giorni. No, no, tutta questa ginnastica terminerà a Bombay, non dubitate. E sta bene in salute il signor Fogg? Domandò Fix col tono più naturale. Benissimo, signor Fix, e anch'io del resto. Mangio come un orco che sia stato a lungo digiuno. Eh, sarà l'aria di mare. Ma il vostro padrone? Io non lo vedo mai sul ponte. Mai, mai. Non è un curioso. Beh, sapete, signor Paspartout, che questo preteso viaggio di 80 giorni potrebbe ben nascondere una missione segreta? Una missione diplomatica, per esempio? Parola mia, signor Fix, non ne so nulla, ve lo confesso. E in fondo non darei una mezza corona per saperlo. Dopo questo incontro, Paspartout e Fix conversarono spesso insieme. L'ispettore di polizia teneva a legarsi col domestico del signor Fogg avrebbe potuto servire all'occorrenza. Gli offriva perciò spesso al bar del Mongolia qualche bicchiere di whisky o di birra che il bravo giovane accettava senza complimenti e arrendeva anche, per non restare in obbligo, giudicando d'altronde questo Fix come un signore molto a modo. Intanto il piroscafo avanzava rapidamente. Il 13 si avvistò Moka, che apparve con la sua cinta di mura in rovina, al di sopra delle quali si innalzavano verdeggianti palme da datteri. In lontananza, sulle montagne, si estendevano vaste piantagioni di caffè. Paspartout fu estasiato nel contemplare questa celebre città e scoprì pure che con le sue mura circolari e un forte smantellato che si disegnava come un'ansa, essa assomigliava a un'enorme mezza tazza. Durante la notte seguente il Mongolia passò lo stretto di Bab al-Mandab, il cui nome in arabo significa la porta delle lacrime, e l'indomani 14 faceva scalo a Steamer Point, a nord-ovest della rada di Aden, per rifornirsi di carbone. Grave e importante problema quello dell'alimentazione delle caldaie delle navi lontano dai centri di produzione del condustibile. Soltanto per la compagnia peninsulare la spesa annuale ammonta alla cifra astronomica di 800.000 sterline. Infatti è stato necessario allestire depositi in parecchi porti e in quei mari lontani il carbone viene a costare 4 sterline la tonnellata. Il Mongolia aveva ancora 1650 miglia da percorrere prima di raggiungere Bombay e doveva restare 4 ore a Steamer Point per riempire l'estive. Ma questo ritardo non poteva nuocere in alcun modo al programma di file a sfog in quanto era previsto. Ed altronde il Mongolia invece di arrivare ad Aden soltanto il 15 ottobre al mattino vi entrava il 14 a sera e c'era stato un guadagno di 15 ore. Il signor Fogg e il suo domestico scesero a terra. Il gentleman voleva far vistare il suo passaporto e Fix li seguì senza essere notato. Compiuta la formalità del visto, fili a sfoga tornò a bordo a riprendere la partita interrotta. Paspartout invece andò a zonzo secondo il suo costume in mezzo a quella popolazione di somali, baniani, parsi, ebrei, arabi, europei che costituiscono i 25.000 abitanti di Aden. Ammirò le fortificazioni che fanno di questa città, la gibilterra dell'oceano indiano e le magnifiche cisterne intorno a cui lavoravano ancora gli ingegneri inglesi duemila anni dopo gli ingegneri del re Salomone. Molto curioso, molto curioso, si diceva Paspartout tornando a bordo. Mi accorgo che non è inutile viaggiare se si vuol veder del nuovo. Alle sei di sera il Mongolia batteva con le pale dell'elica le acque della rada di Aden e ben presto corriva nell'oceano indiano. Gli erano concesse 168 ore per compiere la traversata fra Aden e Bombay e l'oceano indiano gli fu favorevole. Il vento soffiava da nord-ovest e le vele vennero in aiuto al vapore. La nave, usufruendo di una forza di spinta maggiore, rullò di meno. Le signore, in tolette fresche, riapparvero sul ponte. I canti e le danze ricominciarono e il viaggio si compiva dunque nelle migliori condizioni. Paspartout era felicissimo dell'amabile compagno che il caso gli aveva procurato nella persona dell'ispettore Fix. La domenica 20 ottobre, verso mezzogiorno, si avvistò la costa indiana. Due ore dopo, il pilota saliva a bordo del Mongolia. All'orizzonte, un fondale di collina si profilava armoniosamente contro il cielo e ben presto le file di palme che coprirono la città divennero chiaramente visibili. La nave penetrò nella rada formata dalle isole Salset, Colaba, Elefanta e Butcher e alle 4 e mezzo giungeva alle panchine di Bombay. Phileas Fogg terminava in quel momento la 33esima partita della giornata e il suo compagno e lui, grazie a un'audace mossa, avevano fatto le 13 prese terminando con uno splendido slam la bella traversata. Il Mongolia sarebbe dovuto arrivare a Bombay il 22 ottobre e invece gli arrivava il 20. C'era perciò, dalla partenza da Londra, un guadagno di due giorni che Phileas Fogg segnò sul suo itinerario nella colonna degli utili.